Prime conseguenze del decreto sicurezza. Due donne richiedenti asilo con ciascuna un figlio, ospitate in provincia di Lecco, hanno ricevuto un provvedimento di revoca delle misure di accoglienza a seguito del riconoscimento del titolo di protezione umanitaria. Sarebbero finite per strada se non le avesse accolte il comune di Abbadia, l'Ariana. L'amministrazione ha infatti a disposizione un appartamento. Il comune, spiega Cristina Bartesaghi, primo cittadino di Abbadia, ha tre alloggi di proprietà per i quali è stato aperto un bando. Sono state presentate due domande. Espletate le formalità necessarie, i due alloggi verranno assegnati alle due persone residenti ad Abbadia che ne hanno fatto richiesta. Nel frattempo, l'amministrazione comunale ha ricevuto dal presidente del distretto di Lecco, Filippo Galbiati, la richiesta di mettere a disposizione per un periodo limitato di tempo un appartamento da destinare all'accoglienza temporanea di due mamme con bambino che hanno ricevuto un provvedimento di revoca delle misure di accoglienza. Ci è parso giusto rispondere positivamente a tale richiesta, vista la disponibilità dell'alloggio, spiega la Bartesaghi. Le amministrazioni comunali della nostra provincia, che si sono attivate fin da due anni fa in spirito di solidarietà istituzionale per rispondere all'emergenza degli arrivi, collaborando con la prefettura per la gestione dei CAS, si ritrovano ancora oggi col cerino in mano. In tutti i 24 anni in cui ho amministrato, continua la Bartesaghi, Bartesaghi, abbiamo sempre lavorato perché le persone venissero protette nei loro bisogni essenziali, sia che fossero cittadini italiani, sia che fossero stranieri. Credo che un paese che si ritenga civile non possa fare altro. Sarà previsto, conclude il primo cittadino, un rimborso spese al comune di Abbadia a valere sulle quote di solidarietà area comune del piano di zona. Ringrazio il gruppo di volontarie che si è attivato per l'accoglienza e per aiutare queste donne con i loro bambini a inserirsi nella nostra comunità.